sabato 13 gennaio 2024 su usulo web radio per un nuovo appuntamento con agenda avvocati buongiorno dunque a tutti gli amici e colleghi in ascolto da pieno gallo buongiorno anche nella sala come al solito con noi in regia per questo nuovo appuntamento con agenda avvocati le notizie più importanti che abbiamo registrato nella settimana che sta per concludersi senz'altro diciamo il palco il proscenio va dedicato alla notizia che viene dal governo in ambito di obiettivi del piano pnrr per quanto riguarda la giustizia c'è la richiesta dell'unione europea di accelerare quindi su quegli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e proprio per questo si sta pensando a dei premi da conferire ai giudici che riusciranno a smaltire questo arretrato la sfida è quella di riuscire a chiudere in due anni un milione e trecentomila a cause civili a proposito di numeri le cause civili accumulate fino al 2022 da smaltire entro il termine di due anni sono circa il 90 per cento i fascicoli in sospeso nelle corti d'appello che dovranno essere chiusi nello stesso periodo sono circa 180 mila sono tre i mesi che l'unione europea ha dato al governo per introdurre poi questi bonus per i giudici più efficienti mentre ancora è prevista l'assunzione c'è per la per la precisione sono stati assunti 8.250 funzionari addetti nell'ufficio del processo ma adesso si sta preparando un nuovo bando per una nuova tornata di assunzioni quindi premi per gli uffici giudiziari che riusciranno ad accelerare nello smaltimento degli arretrati sono previste poi risvolto della medaglia richiami e sanzioni per quelle toghe che continueranno ad accumulare processi salvo poi come in qualche caso avviene abbandonarli una sorta di limbo il 2024 sarà un anno chiave per la lotta del governo contro la giustizia rumaca e soprattutto per quell'arretrato nella giustizia civile che poi la vera zavorra dei tribunali e delle corti d'appello per converso resta un pilastro del PNRR tanto che se l'Italia non riuscisse a smaltire i fascicoli nei tempi concordati con la Commissione europea una fetta importante dei fondi previsti potrebbe saltare da qui lo sprint del Ministero della giustizia e del Ministro Carlo Nordio a cui i tecnici dell'Unione europea hanno chiesto di introdurre entro marzo 2024 un nuovo sistema di incentivi per accelerare i tempi del processo civile e smaltire gli arretrati ma anche per sostenere gli uffici giudiziari meno efficienti tra un si è detto serve uno sforzo extra e qui occorre tornare all'inizio la richiesta della Commissione europea all'Italia era quella di introdurre entro la fine di marzo un nuovo sistema di incentivi appunto per invogliare i giudici a fare in fretta si tratta di bonus veri e propri bonus economici per quei magistrati quelle toghe che rispetteranno i ritmi di smaltimento dei fascicoli su base annuale ma gli incentivi non saranno solo quelli che si potranno tenere in busta paga del resto il disegno di legge recentemente licenziato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della legge cartabia mette a sistema anche le pagelle per i magistrati e quindi va proprio in questa direzione inserendo tra i parametri del CSM per giudicare la promozione di un togato anche la velocità e l'efficienza nei processi insomma questa è la notizia che abbiamo registrato proprio l'8 gennaio appena trascorso inizio settimana alla linea della regia torniamo subito con due importanti notizie sul piano della giurisprudenza ed eccoci di nuovo in diretta vi avevo annunciato due notizie proprio sul piano della giurisprudenza più recente recentissima si tratta di pronunce che rivestono una certa importanza la prima il 3 novembre è stata pubblicata all'ordinanza 30.507 della terza sezione civile della Cassazione oggetto il principio processuale della ragione più liquida nella decisione del giudice questo principio si scontra con la natura devolutiva del giudizio di appello in secondo grado infatti l'oggetto della decisione è delimitato dai motivi di impugnazione e se il riesame della sentenza impugnata esce da questo perimetro si configura la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ricorre una gerarchia rigorosa in questo senso ha detto la Cassazione viene in mente l'articolo 276 del codice di procedura civile e che non prevede per la verità alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito e quindi il giudice può decidere la causa in base alla questione ritenuta di più agevole soluzione la disposizione stabilisce soltanto una gerarchia rigorosa tra esame di questioni di rito e di merito il merito di una domanda infatti non può essere esaminato se prima non sono risolte questioni pregiudiziali poste dalle parti o rilevabili di ufficio al di là di questo però non è previsto un ordine da seguire per la pluralità di eccezioni del merito per cui il giudice è libero di decidere in materia individuando la questione posta a base della decisione tuttavia il giudizio di appello come sappiamo ha natura devolutiva e quindi la specifica indicazione dei motivi è richiesta dall'articolo 342 del codice di procedura civile proprio ai fini della individuazione dell'oggetto della domanda nel caso all'esame della Cassazione i motivi di gravame erano due ben delimitati la corte territoriale invece si è pronunciata su una questione del tutto eccentrica ritenendo di poter prescindere dall'esaminare le censure che puntavano ad escludere nel caso specifico l'utilizzabilità di una scrittura privata proprio per questo a parere della Cassazione è ricorsa alla violazione delle norme ricordate in altro ambito invece abbiamo registrato proprio il 4 gennaio la prima pronuncia della Cassazione a sezioni unite in materia condominiale l'ordinanza è la 258 del 2024 ed è intervenuta per chiarire quale sia la ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di fornitura di energia elettrica da un concessionario esercente un servizio pubblico essenziale quindi affidato in concessione dallo Stato al gestore della rete allora quando il cattivo funzionamento sia causa di danni ad un impianto condominiale l'occasione per l'intervento ha preso lo spunto da una pronuncia su un difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Catania in questo caso era stata respinta alla domanda risarcitoria di un condominio locale contro una società di distituzione e somministrazione per i tanni causati all'ascensore dello stabile a causa di un forte sbalzo di tensione della fornitura dell'energia elettrica e per il Tribunale queste controversie, quelle appunto aventi ad oggetto alla fornitura sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in applicazione della previsione dell'articolo 33 del decreto legislativo 89 del 1998 nel testo dell'epoca vigente riassunto però giudizio dinanzi al TAR regionale Sicilia sezione di staccata di Catania con ordinanza del 27 marzo dell'anno appena trascorso veniva sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'articolo 11 del codice del processo amministrativo dubitando in questo caso il TAR della propria giurisdizione la Cassazione, sezioni unite, ha sciolto la questione affermando esplicitamente che per la materia trattata la giurisdizione appartiene al giudice ordinario si precisa che la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo secondo un'altra pronuncia delle sezioni unite risalente al 2004 la numero 23.745 conseguentemente ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente invece ai rapporti di utenza pertanto se l'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'ente gestore del servizio energetico e o proprietario della rete riguarda un danno riflesso della organizzazione del servizio stesso la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo mentre sussiste, come nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo Eccoci di nuovo qui in diretta per parlare di una questione che ha fatto molto scalpore legata anche alle finalità di beneficenza con le quali queste attività attendevano diciamo che stiamo parlando del cosiddetto caso Ferranni perché come sapete e come un po' sappiamo tutti la Chiara Ferranni è ora indagata per truffa aggravata ed infatti è attesa per i prossimi giorni la convocazione in procura dei manager di Chiara Ferranni e della Balocco in questo caso il famoso Pandora Gate nell'indagine per truffa aggravata per la vicenda del Pandoro oggetto di multe dell'antitrust per pratica commerciale scorretta in questo caso Ferranni e il manager della Balocco sono indagati appunto per truffa aggravata perché dopo le acquisizioni dei documenti negli uffici dell'azienda piemontese fatta dalla Guardia di Finanza gli inquirenti guidati da PM Eugenio Fusco hanno ritenuto di poter individuare quali dirigenti delle società si sono occupati del progetto Pink Christmas e del contratto sottoscritto nel dicembre del 2021 scattano quindi i primi interrogatori come testimoni per Costoro solo in una seconda fase dovrebbero essere interrogate Ferranni difesa dagli avvocati Marcello Vana e Giuseppe Iannacone e la Presidente e l'amministratore delegato della Balocco difesa dall'avvocato Alessandra Bono sul fronte commerciale secondo indiscrizioni altre aziende starebbero per sfidarsi dai rapporti d'affari con le aziende della influencer cremonese diciamo che a margine di questa di questa vicenda l'autorità adesso di garanzia ha dato di scoverta le linee guida che impongono ai creator digitali rispetto di obblighi su pubblicità trasparenza e tutela dei minori come già accade per le tv a rientrare nel campo di applicazioni sono i creator con almeno un milione di follower sui vari social sono previste multe fino a 600 mila euro nella sostanza adesso per questi soggetti è ora di entrare nell'età adulta niente più scorazzate in totale libertà dovranno fare adesso i conti con i paletti decisi dall'Agicom e che nei fatti partono dalla considerazione dei creator digitali più seguiti alla stegua di veri e propri fornitori di servizi di media audiovisivi sono soggetti cioè che creano producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi tramite piattaforme per la condivisione di video e social media e allora devono esercitare responsabilità editoriale e attenersi a quegli obblighi cui sono assoggettate le emittenti televisive questa è una notizia fra virgolette di colore restituiamo la linea alla regia per andare velocemente al termine di questa puntata di questo sabato 13 gennaio si è molto parlato nella settimana appena trascorsa di queste novità che sarebbero introdotte dalle nuove specifiche tecniche per il procedimento telematico civile e quello penale tra le altre novità la bozza del provvedimento del ministero della giustizia pubblicato anche sul sito online del ministero tra le novità come dicevo la possibilità anche di allegare quali documenti i file mp4 e mp3 sostanzialmente video e audio entrano nel processo civile dalla porta principale nelle nuove specifiche tecniche per il processo telematico civile e penale ci sono anche questi file questi tipi di file tra i documenti informatici che le parti possono allegare agli atti la bozza del provvedimento a cura del dipartimento per la transizione digitale del ministero resterà in consultazione pubblica ancora per qualche giorno prima di entrare in vigore si colma quindi una lacuna che nemmeno la riforma cartabia era riuscita a superare del tutto per la verità era stato annunciato a luglio dal sottosegretario Andrea Ostellari che era intervenuto al question time in commissione giustizia al senato e nella risposta all'interrogazione l'esponente del governo confidava che il problema sarebbe stato risolto entro il 2023 ora le dimensioni massime delle buste telematiche tra l'altro aumenteranno fino a 60 megabyte ma comunque i file video per la loro pesantezza dovranno essere compressi o comunque suddivisi in vari file per poter essere allegati agli atti la novità sta nell'articolo 15 primo comma punto c e d del provvedimento del digisia tra i formati ammessi come file allegati ci sono i video che appartengono alle famiglie mp4 m4v mov mpg e altri ancora per quanto riguarda l'audio oltre agli mp3 sono autorizzate altre estensioni di file gli allegati sono sempre sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge e siccome i video con ogni probabilità dovranno essere zippati occorre ricordare che la firma digitale deve essere applicata dopo la compressione quindi ci attendono queste novità telematiche hai qualcosa da dire hai qualcosa da dire contattaci web radio piocciolaiuslow.it e parliamo di esecuzioni l'ultima notizia della giornata parliamo di esecuzioni in particolare per la riscrizione di quei crediti cosiddetti deteriorati ceduti dalle banche a intermediari finanziari perché il Tribunale di Livorno è intervenuto consolidando un orientamento in base al quale al fine di promuovere l'esecuzione forzata il mandatario deve essere iscritto all'albo ex articolo 106 del testo unico bancario tema non di secondaria importanza poiché la quasi totalità dei crediti deteriorati quelli che i debitori non riescono a ripagare sono oggetto di cartolarizzazione concessione a società veicolo la questione trova spunto dall'articolo dall'evidenza che l'articolo 2 comma 6 della legge 130 del 99 disposizione sulla cartolarizzazione dei crediti prescrive che i servizi di riscossione dei crediti di ceduti possono essere svolti da banchi o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico e che gli altri soggetti che intendono prestare gli stessi servizi chiedono l'iscrizione in questo albo anche qualora non esercitano le attività elencate nel comma 1 dello stesso purché ne possiedano però i relativi requisiti questa tesi è rafforzata dalla banca d'italia con la sua circolare la numero 288 del 2015 per cui nell'ambito di cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito anche regolate in conto corrente il titolare può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e poteri di cui all'articolo solo a banche e intermediari finanziari iscritti appunto nell'apposito albo previsto dal testo unico secondo il collegio del tribunale di Vornese a nulla varrebbe l'autorizzazione amministrativa a esenza dell'articolo 115 essendo l'ambito di operatività di questo provvedimento normalmente circoscritto alle sole attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi né tantomeno può richiamarsi la comunicazione della Banca d'Italia dell'11 novembre del 2021 dalla quale si evincerebbe che i soggetti esercitanti l'incarico della riscossione dei crediti ceduti non devono essere iscritti all'albo previsto dal testo unico in quanto privo di efficacia normativa è vero che non si è tenuti all'iscrizione dell'albo previsto in questo articolo dicono i giudici ma per procedere al recupero del credito di cui si è resa cessionaria si deve avvalere di uno dei soggetti che lo sia con compito di controllo della regolarità della cartolarizzazione e lui soltanto potrà poi esternalizzare l'attività di recupero credito a soggetti terzi il Tribunale di Livorno nel confermare l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo ha accertato la mancata legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo al creditore precedente mandatario ovvero del soggetto giuridico delegato all'incasso stante appunto l'assenza dell'iscrizione di quest'ultimo all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico era l'ultima notizia di questo sabato 13 gennaio siamo in cusura a tutti voi in ascolto da Pino Gallo un grazie a Ornella Sala e appuntamento a sabato prossimo libertà e diritto per diffondere giustizia è con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati in onda ogni giorno tutte le novità normative gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui YouSlow Web Radio il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia per la giustizia per la giustizia che giustizia